via podgora, via via podgora, via podgora, via via podgora, gallas mi piaci, via podgora, via via podgora, all night long, gallas mi piaci, vergognosissimo. Buongiorno a tutti, siamo sempre qui, abbiamo Vincenzo con i Raiba, un po' alla recharge, forse avrà la catarata, e poi abbiamo il meccanico di fiducia, Fabio di FF, adesso ha delle novità, nuove gomme, prezzi eccezionali, quattro stagioni, capricciose, prosciutto e funghi. Ma, allora, o vieni di là, se no, allora, ricordandovi che domani non ci sarò, mi avviso, che vado via due giorni a festeggiare il compleanno, così nessuno va. Cioè, questa signorina, c'è una bella ragazza che va dal ginecologo. Ginecologo, certo, vado sempre dal ginecologo, come lui doveva andare dall'urologo. Però va dal ginecologo e come va? Benino, però sento, mi sento, dottore, ha un problema, mi dico. Mi succede che da un po' di tempo, io quando sento un profumo di caffè, mi viene una voglia matta di fare l'amore, una roba che è una roba strana, no? Allora, facciamo una cosa, lei intanto che va dietro il paravento spugliarsi, io vado su a mettere una bocca da sei. Un saluto vergognosissimo, è tornata anche la Sabri, non si è fatto vedere il titolare perché è un po' tornato da Napoli, un po' ieri l'Inter ha vinto e quindi starà festeggiando. Un saluto dalle tre sorelle, la Sabri, ciao, ciao, ciao. Sempre meno ma presente. Sì, sempre meno ma presente.